Abbiamo appena fatto in tempo a scartare i regali di Natale, abbiamo terminato la corsa agli acquisti ed ecco spuntare i saldi. In Emilia Romagna, quindi anche a Piacenza, si parte il 4 gennaio. Praticamente tra pochi giorni si potranno fare acquisti a prezzi stracciati, magari acquistando il regalo che avremmo voluto ma che non è arrivato o comprando capi di abbigliamento che possano durare nel tempo. I consumi quest'anno sono stati all'insegna del risparmio. L'Istat ha calcolato un incremento dello 0,6% e il rallentamento rispetto all'anno precedente. Il Codacons intanto è tornato alla carica su una liberalizzazione dei saldi per creare occasioni di acquisto nei negozi durante tutto l'anno. Le associazioni di categoria ricordano i consigli da seguire per evitare inconvenienti, dalla possibilità di cambiare un capo lasciato alla discrezionalità del negoziante, alle carte di credito che devono essere accettate, ai capi che devono avere carattere stagionale, all'obbligo da parte del commerciante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Grazie a tutti.